Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. In Genesi 19, 17, dice così, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro. Bellissimo. Lui tintinnava, voleva andare, voleva restare, aveva pecore, buoi, case, ma lui doveva salvarsi la vita. Cosa fare? A volte siamo così noi. Che cosa facciamo? La vita però è più importante di tutte le altre cose, è vero? Io credo così, tu? Leggiamolo questo verso, così entriamo nel vivo di quello che il Signore ci vuole far comprendere attraverso la Sua parola. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini, un angelo, disse, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca, scampo sul monte, altrimenti perirai. Quando andiamo al Signore, questo è un esempio di salvezza certa, quando andiamo al Signore ci vuole completi, vuole la nostra vita, il nostro cuore, il nostro essere. Nella mente di Dio non esiste il pensiero un po' e un po', o siamo o non siamo. Gesù raffina questi sentimenti anche nel Vangelo, perché noi abbiamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Ogni scrivo esercitato per il Regno di Dio prende dall'Antico e dal Nuovo e compone il messaggio di Dio. Tira fuori per dire quello che il Signore vuole dire, perché lo Spirito Santo ci aiuta a mettere insieme i pensieri per parlare quello che Lui mette nel nostro cuore. Per dire, in Matteo 6,24, Gesù categoricamente dichiara questa verità. Nessuno, quando dice nessuno, uno sì e uno no, nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Qui definisce i due valori, spirituali e materiali. Uno Dio e l'altro Mammona. Diciamo, tutti gli interessi di questo mondo vengono catalogati nel padrone, padre grande. Due padroni. Uno Dio, padre grande, veramente. L'altro non è grande, perché quello ci porta fuori strada. Due padroni. Lui è il padre della vita e vale più di tutte le altre cose. Noi vogliamo servire il padre della vita. Padrone. Nel verso 25 ci dice che la vita vale più delle cose. Penso che siamo d'accordo con questo. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. E la domanda è questa. Non è la vita più del nutrimento? Penso di sì. È il corpo più del vestito? La vita vale più delle cose? È il corpo vale più dei vestiti? Credo che tutte le persone di buon senso possiamo dire sì. Beh, se è sì, allora Gesù ha ragione quanto parla. Perché lui parla con una saggezza divina. La vita vale più delle cose. Penso che sei d'accordo. Io sono d'accordo. E che il corpo vale più dei vestiti. Penso pure questo, no? No, grazie Signore, perché tu ci aiuti a fare la scelta giusta. In Matteo 10, 37 e 38, continua il Signore per chiarirci questi concetti, perché sono importanti. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Il verso 38, leggiamolo pure, che dice Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Vuol dire consacrarsi a Cristo, cioè metterlo al primo posto. nella vita o nella morte. Ci sono milioni di cristiani che per seguire Gesù sono arrivati al punto di o seguire Gesù e morire fisicamente o rinnegare Gesù e vivere fisicamente. quando Cristo ha cambiato la nostra vita se noi perseveriamo nel mantenere un rapporto continuo con il Signore a questa decisione neppure la morte ci può fermare. La morte fisica nella vita e nella morte e nella morte chi fa diversamente perde tutto può essere leggiamo nel verso 39 come Gesù ragiona in un modo semplice che più semplice di così si muore leggiamolo dice così chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi segue come dice Gesù la perdiamo chi segue come dice Gesù la perdiamo quella naturale ma per la causa di Gesù e del Vangelo abbiamo tutto in più la vita eterna come abbiamo tutto sì perché in Matteo 19 29 dice che quando lo seguiamo qui abbiamo più di quello che abbiamo quando non lo seguiamo chi avrà fatto così come dice Gesù che avrà lasciato case o fratelli o sorelle o madre o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome a causa del Vangelo ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna noi molte volte indugiamo a lasciare perché siamo un poco come la scimmia non che siamo figli di scimmia come dice la scienza moderna che ancora non ha trovato l'anello di congiunzione per dire che siamo figli di scimmia invece Dio ho detto già qualche volta ha trovato l'anello di congiunzione che attraverso Cristo ci ha fatti diventare figli di Dio cioè se noi lasciamo tutto abbiamo tutto e di più e in più la vita eterna se invece ci leghiamo alle cose di questo mondo mammona in generale perdiamo una cosa e l'altra non abbiamo niente perché lasciamo tutto signori aiutaci chi segue Gesù come dice Gesù perdiamo tutto ma a causa se la lasciamo per seguire Gesù e seguiamo nel portare avanti le opere che ci ha affidato abbiamo tutto in più la vita eterna quando andiamo dietro a Gesù come dice in Matteo 16 24 quando seguiamo dietro vuol dire seguire Gesù leggiamo allora Gesù disse ai suoi discepoli se uno vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso prenda la sua croce e mi seguo vedi è chiaro tutto questo bisogna prendere una decisione nella titubanza che aveva Lot se andare avanti o restare a Sodoma gli angeli perché il suo zio aveva pregato per lui forzavano Lot nel dire muoviti salvati la vita Gesù dice la stessa cosa a noi per avere un quadro più chiaro perché così comprendiamo bene dato che gli esempi ci aiutano a capire San Paolo aveva ben compreso questo metodo perché questo è il metodo di Dio in Filippese capitolo 3 verso 13 lui dice come ha fatto è uno da imitare leggiamolo insieme fratelli io non ritengo di averlo già afferrato perché fin che siamo nella carne non afferriamo la completezza del regno di Dio ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti gli esempi ci aiutano quando noi incontriamo Cristo ci diamo a Cristo riceviamo Cristo di là è una scelta ferrea cominciamo per non fermarci mai più non che siamo arrivati però passo dopo passo abbiamo intrapreso la strada della santificazione e le altre cose li cominciamo a trascurare gli esempi ci aiutano siamo arrivati ma una cosa faccio dimenticando tutte quelle cose che erano importanti prima lui aveva già detto questo nel verso 5 dello stesso capitolo aveva detto lui chi era prima di incontrare Cristo guardiamo io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele della tribù di Beniamino ebreo figlio di ebrei quando alla legge fariseo era un integralista un legalista un fariseo che serviva che serviva nella religione di Dio con uno zelo che arrivava fino ad uccidere i cristiani nel verso 6 leggiamo quando allo zelo persecutori della chiesa quando alla giustizia che nella legge irreprensibile tutta roba che non serve più ora ho una celeste chiamata quando noi cominciamo a seguire Gesù che fa sentire nel nostro cuore di seguirlo è una chiamata celeste non è più terrena nel verso 14 dello stesso capitolo dice proprio questo questo grande apostolo e seguace di Gesù Cristo corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù man mano che maturiamo dobbiamo anche noi fare così leggiamo il verso 15 così comprendiamo in pratica che vuol dire seguire Gesù sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi poi se restiamo bambini allora stiamo sempre messi male se in qualche cosa voi pensate altrimenti e abbiamo la volontà di seguire Dio ci rivela anche quella che abbiamo bisogno siamo partiti allora con un principio che è lo stesso di quello che dice Gesù gli angeli che cosa dicevano circa quattromila anni fa a lott dicevano metti la tua vita sicuro non guardare indietro che cosa diceva Paolo io una cosa faccio guardo avanti e non più a quelle cose che sono dietro la grande religione la grande occasione le grandi lauree tutta la sua capacità in un altro passo dice che quelle per me sono tutte come spazzatura perché io voglio scoprire sempre di più Cristo 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 il cielo non finisce mai le rivelazioni le visioni il servizio ci arricchisce di qualcosa straordinario se non hai fatto ancora questo passo pensa di farlo e farlo stasera stesso perché le due cose insieme non vanno non si può camminare di là e di qua sono veramente opposte leggiamo cosa dice Genesi 19 17 dice dopo averli fatti uscire quando usciamo dal mondo uno di quegli uomini disse metti la tua vita al sicuro non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo sul monte altrimenti perirai quando cominciamo a camminare col Signore incominciamo a camminare verso il sicuro verso il cielo verso la montagna verso il monte sion alleluia gloria al Signore non guardare indietro tutti i messaggeri di Dio dicono la stessa cosa gli angeli dicevano questo questo ti dico pure io perché io questo ho scelto di fare e questo è la scelta più bella che puoi fare se non l'hai fatta falla mentre parliamo perché lo Spirito Santo ti fa comprendere che questa è la scelta migliore che tu puoi fare la stessa cosa il Signore oggi ha dei messaggeri che ci fa sapere come al tempo di Abramo faceva la stessa cosa 4.000 anni fa Dio diceva le stesse cose nel capitolo 20 capitolo 18 della Genesi verso 17 dice il Signore disse dovrei forse nascondere ad Abramo quando sto per fare nel verso 20 dice qualcosa di importante il Signore disse siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave il grido che saliva da quella città degli abusi della Sodomia e così via quelli che venivano maltrattati a causa del peccato della Sodomia il grido arrivava verso Dio l'inquinamento morale era ai massimi livelli sorella oggi è la stessa cosa il grido degli abusi costrizioni fisiche e psicologiche non vuol dire non consensuali a certe cose che vengono fatte le grida di chi soffre stanno salendo verso Dio in questo tempo più di quando era Sodoma e Gomorra abusi infantili fin da piccoli sette sataniche senza pietà pedofilia pedofilia online che non finisce mai i ragazzi dai 10 ai 13 anni vengono presi da tutte le parti scompaiono c'è di tutto e di più adesso è peggio del tempo di Sodoma e Gomorra in tutte le fasci sociali abbiamo superato Sodoma e Gomorra quando Dio dice scendo e li vado a distruggere stava facendo qualcosa di speciale perché distruggere quelle due città quelle zone Dio faceva meno danno che distruggerle che lasciarle in vita perché lasciarle in vita si allargava la macchia del peccato di più di più di più perciò Dio nella sua parola ci fa comprendere che quando la malvagità arriva ai massimi livelli Dio mette fine e adesso siamo proprio sull'orlo di così in Genesi 6 5 c'è un altro caso leggiamo in quel tempo la malvagità degli uomini cresceva pensava e faceva male dalla mattina alla sera dalla sera alla mattina e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvaggi in ogni tempo adesso 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 sorello fratello siamo arrivati ad un punto peggio per quello che succede in giro nel mondo queste grida continuano a raggiungere il cuore di Dio è il ritorno del figlio che è più vicino di quando noi pensiamo siamo anche noi sull'orlo di un grande cambiamento perché come il mondo adesso è meglio che si distrugge perché Dio lo fa e non che resta com'è perché è peggioro da tutte le parti proprio come fece con Sodoma e Gomorra così Gesù ha detto che sarà perché egli ha portato degli esempi dicendo proprio come ai giorni di Noè parla del diluvio proprio come ai giorni di Sodoma e Gomorra che non appena Lot uscì cadde ciò che doveva cadere quando Gesù parla del suo ritorno dice che questi esempi sono in questo tempo per noi hai capito sorella fratello metti la tua vita al sicuro non guardare indietro perché oggi siamo messi proprio nella stessa posizione non ti voglio fare paura guardati attorno e vedi che cosa sta succedendo ci sono di quelli che ogni giorno portano più danno possibile come può migliorare se tu prendi la guerra che abbiamo qui a quattro passi no più giorni passano e più distruzione si porta senza motivi senza ragioni quando si chiede ai russi perché fate questo loro dicono che stanno facendo una operazione speciale per aiutare gli ucraini vedi dove siamo arrivati proprio come dice Dio che chiamano il male bene e il bene male ti pare che stanno facendo un piacere agli ucraini i russi non credo proprio perciò oggi è peggio dei giorni di Noè è peggio dei giorni di Sodoma e Gomorra Signore aiutaci nel verso 21 dello stesso capitolo leggiamolo insieme nel capitolo 18 della Genesi dice Dio io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me e se così non è lo saprò Dio già sapeva solo che parla con Abramo perché Abramo si preoccupava di Lot suo nipote infatti nel verso 23 Abramo cominciò a intercedere per Lot leggiamo sì Abramo gli si avvicinò e gli disse farai dunque perire il giusto insieme con l'Empio il giusto Abramo mentre parlava con il Signore voleva intercedere per Lot Abramo pensava a Lot noi dobbiamo intercedere per i nostri figli per i nostri parenti Dio vuole che lo facciamo Abramo lo fa e noi lo dobbiamo fare come figli di Abramo nel capitolo 19 verso 14 è un esempio che ci viene mostrato allora Lot uscì parlò ai suoi generi vedi Lot intercede per i suoi generi parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie disse alzatevi uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città ma ai suoi generi parve che volesse scherzare ma ci sono reazioni strane stiamo attenti io mio marito c'è qualcuno che dice che sta quasi per convertirsi io mi sono convertita però aspetto che si converte mio marito e poi facciamo il battesimo insieme io sono salvata però il mio fidanzato non è ancora salvato aspetto che si salva poi si e poi mi metto a servire il Signore quest'uomo intercede per i suoi i suoi generi però loro ci girano intorno il Signore aiutaci il Signore ti vuole risparmiare intercediamo sì ma stiamo attenti che per guardare agli altri ci perdiamo noi noi dobbiamo essere ubbidienti al Signore tutto il rispetto per quelli che sono intorno a noi preghiamo intercediamo ma noi salviamoci la vita nel verso 16 leggiamo nello stesso capitolo ma egli induggiava e quegli uomini presero la mano presero la mano lui presero per mano lui sua moglie e le sue due figlie perché il Signore lo voleva risparmiare lo portarono via e lo misero fuori dalla città esci fuori dal sistema diabolico metti la tua vita al sicuro se aspetti troppo i parenti che si convertono per fare le tue decisioni e aspetti che tuo marito si converta che tua figlia si converta che poi ti metti a fare la volontà del Signore sorella fratello testimonia del Signore ma tu fa la volontà del Signore fa quello che ti dice il Signore fa come il Signore ti ordina nel verso 17 rileggiamo Dio che parla a noi per farci comprendere che la nostra vita è più preziosa di quando noi pensiamo dopo averli fatti uscire uno di quegli uomini disse metti la tua vita al sicuro sorella fratello non guardare indietro e non ti guardare intorno non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo sul monte altrimenti perirai noi abbiamo la porta della grazia aperta ancora esattamente come l'otto nel verso 19 dice così quanto sei grande Signore ecco il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me conservandomi in vita ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia qui lot mostra la sua incredulità sa che qualcosa sta accadendo ma lui vuole ritardare vuole girarci intorno l'incredulità è una brutta bestia signore aiutaci qui lot mostra la sua incredulità non ha capito tendeva più verso Sodoma che verso la salvezza si trattava di ore e Dio vuole salvare era un passo dalla salvezza e lui ritardava un poco come fanno molti credenti oggi il signore sta per ritornare e torna da un momento all'altro e molti credenti ci girano intorno fanno un piede nel mondo e un piede nella chiesa no 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 non funziona sorella non funziona fratello leggiamo il verso 23 e 24 che ci aiutano questi paralleli perché Gesù è lui che l'ha detto il sole spuntava sulla terra quando l'otta arrivò a Soar e il verso 24 dice allora il signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del signore il signore che oggi conosciamo come il figlio di Dio signore Gesù Cristo e qui vediamo la Trinità che dice a me e a te attraverso lo Spirito Santo non attraverso gli angeli in ebrei capitolo 3 verso 7 dice così parla a noi questi esempi servono per te e per me per ciò come dice lo Spirito Santo oggi se udite la sua voce ieri c'erano gli angeli che parlavano a lotto e lo prendevano e gli facevano comprendere che era urgente il lasciare Sodoma e Gomorra perché la vita valeva più di tutti i beni che lasciava Sodoma oggi lo Spirito Santo dice a te e a me che il cielo vale più del mondo le cose del mondo valgono meno della vita spirituale della vita eterna sorella fratello leggiamo un'altra volta cosa dice la terza persona della Trinità verso 7 perciò come dice lo Spirito Santo oggi se udite la sua voce nel verso 8 leggiamo che cosa vuole dire non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione come nel giorno della tentazione nel deserto nel verso 11 e ancora un altro ammonimento che ci parla così giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo e non entrarono signore aiutaci al momento della salvezza ogni credente entra nella salvezza al momento della salvezza ogni credente entra nel riposo la moglie di Lot era un passo dalla salvezza nel capitolo 19 verso 26 se non lo sai o se lo sai la Bibbia ce lo ricorda che fine fece proprio sul confine dove era salvato leggiamo cosa fece di quanto ritardò capitolo 19 verso 26 dice così Genesi 19 26 la moglie di Lot ci sei ragazzo ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale non solo perse la salvezza perse tutto e perse pure la vita eterna signore aiutaci queste cose sono scritte per insegnarci come ci dobbiamo muovere sulla via della salvezza Gesù ne parla di questo nel capitolo 17 di Luca verso 29 dice così appena ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti leggiamo il verso 32 ricordatevi della moglie di Lot queste cose sono scritte e Gesù le ha ripetute e stasera li stiamo leggendo perché che ricordo era? era un ricordo che ha un passo Dio li voleva salvare a tutti i costi il Signore ti vuole salvare è facile che se è un passo della salvezza ricevi Cristo nella tua vita questa sera invitalo nel tuo cuore perché questi esempi ci parlano di ciò che sta per accadere prima di quando noi pensiamo e la fu colta dal giudizio ad un passo della salvezza rileggiamo il verso 26 del capitolo 19 Signore aiutaci stasera perché abbiamo bisogno veramente di comprendere queste cose perché il Signore ci parla ma la moglie di Lot si morse a guardare indietro perché il suo cuore era restato lì e lei era tanto interessata più di tornare nei suoi beni che è di essere salvata Signore aiutaci l'incredulità è una brutta bestia non credere a Dio è peccato è peccato lo Spirito Santo continua nel capitolo 3 verso 12 di Ebrei dice così badate fratelli che non ci sia in nessun di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente gli ebrei erano religiosi ma non credenti erano increduli e cosa che fine fecero e a chi parla la scrittura a dei credenti ebrei a chi parla stasera la scrittura a dei credenti cristiani non siamo tutti cristiani non siamo non professiamo tutti di essere una nazione cristiana a chi parla parla a noi rileggiamo questo verso il verso 12 il signore ci parla proprio in un modo semplice ma chiaro vada fratello sorella che non ci sia dentro di te un cuore malvagio e incredulo che ti allontana dal Dio vivente gli ebrei erano religiosi ma non credenti leggiamo il verso 13 che ci aiuta a comprendere ma esortatevi a vicenda ogni giorno io esorto te tu esorti me finché si può dire oggi perché quando non diciamo più oggi non ci siamo più perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato che nessuno di noi sia un passo dalla salvezza e resti come una statua di sale questi esempi servono per noi ci dobbiamo affrettare e andare avanti con tutto il cuore lasciare per prendere abbiamo letto nel capitolo 3 dei filippesi verso 5 e 6 cosa che patrimonio aveva Paolo ma nel verso 14 del capitolo 3 ci dice qualcosa di molto importante leggiamolo insieme cominciamo dal 13 fratelli io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti verso 14 corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù questo vuol dire seguire il Signore mettiamo tutte le altre cose in seconda fila perché la vita vale più delle cose del mondo il corpo vale più del vestito detto Gesù non facciamo che mettiamo i valori che non valgono al posto dei valori che valgono la nostra vita eterna con Gesù la nostra vita vale di più di tutte le cose di questo mondo Gesù per farci comprendere bene nella semplicità del suo messaggio dice che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la sua vita e che cosa può dare in cambio della sua vita c'è qualche cosa che vale più della tua vita sorella c'è qualche cosa che vale più della tua vita fratello c'è qualche cosa che vale più della vita eterna ricevendo Cristo nella tua vita e seguire Cristo abbiamo veramente perso i valori dal non sapere Signore aiutaci questa sera alleluia gloria al Signore Spirito Santo di Dio continua a parlare ai nostri curi e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o cambi a causa del mio nome o del Vangelo ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna anche questa sera il Signore ci ha parlato ti ha parlato hai compreso molto bene vuoi ricevere Cristo nella tua vita e dargli il primo posto prima di qualsiasi cosa basta un atto di apertura a Lui sì prega insieme con me Signore ti ringrazio che attraverso la tua parola questa sera hai parlato al mio cuore Signore sì voglio far passare tutte le altre cose in seconda fila voglio mettere te al primo posto viene nella mia vita Signore sì sì perdonami che non ho fatto questa decisione per il passato ma stasera lo Spirito tuo Santo ha parlato al mio cuore perciò ti chiedo perdonami lavami col tuo sangue riempimi lode e gloria a te Signore grazie 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 amén amén amén